...del disprezzo per la povertà. Caro Del Mastro, qui c'è un odio sociale verso i poveri. Guardi, che la sinistra oggi si inventi nuovamente l'amica dei poveri mi fa molto ridere. In ogni caso non c'è nessun odio sociale verso i poveri. C'è la consapevolezza che 20 miliardi per il reddito di cittadinanza così congegnato hanno scoraggiato il mondo del lavoro. E c'è la consapevolezza che noi dovremmo fare un futuro di lavoro. Allora prendiamo la vostra proposta. Mettiamo quei 20 miliardi sulle armi e abbiamo risposto. No, la nostra proposta è mettere quei 20 miliardi per il fungo fiscale sul ballo del lavoro e dare un futuro di lavoro ai nostri giovani. La nostra proposta è prendere quei soldi e abbattere il culo fiscale sul mondo del lavoro.